Renzi che non era ancora segretario del PD diceva cose tremende di Alfano, ad arrivare a Fiumicino con i casini, il raccordo anulare e a trovare parcheggio sei a posto perché c'è Alfano. Allora l'ISIS, per fortuna i servizi segreti dell'ISIS funzionano addirittura peggio dei nostri perché non hanno ancora saputo che i nostri sono in mano ad Alfano. C'era la mozione di sfiducia e quindi si discuteva in Parlamento, 5 Stelle volevano la testa di Alfano, la testa si fa per dire anche perché trovarla è un'impresa, volevano la poltrona di Alfano. E' una penna raffinatissima, era noto anche come un giornalista corrosivo, non si sa che cosa gli sia capitato, cioè un'ipersalivazione, un eccesso di bave, non so come si chiami questa malattia ma sicuramente avrà un nome. E' quasi da soffocamento. Napolitano, che secondo il giudice, ecco questa è una leccata fronte-retro, è un pezzo dove lecca contemporaneamente Napolitano e Renzi, il giorno in cui Renzi va a portargli la lista dei ministri e Napolitano gliene cancella la metà e gli scrive quello che vuole lui. Dopo tre ore di tre genda Renzi esce e questo riesce a scrivere questa roba qua su Repubblica. Napolitano, che secondo il giudizio di Malaparte non perde mai la calma neppure dinanzi all'Apocalisse, ha imposto a Renzi il suo passo. Mogherini, Boschi, Madia, Guidi, Lanzetta, Pinotti, che non era una formazione di calcetto, erano le ministre del governo re. Non sono le rose del ventennio né le lupe di Silvio né le amazzoni di Bossi, sono invece la dolcezza della gens nova, non affamate ma pronte a perdersi nella politica, rassicuranti e pacificanti custodi dell'irruenza del capo. Ma poiché nella danza non c'è solo chi conduce, ma anche chi seduce, Renzi ha imposto al passo lento di Napolitano il suo peso di libertà, a volte baldanzosa e a volte birichina. Di sicuro la sua gioia era genuina. Ebbene, questa è l'allegria del rilassamento, l'evviva del dopo partita, la felicità della vittoria. Un presidente del consiglio così raggiante è una novità per l'Italia. Solo grazie alla prudenza di Napolitano che lo ha dosato e sorvegliato, Renzi è rimasto l'attor giovane con il bellissimo torto di prendersi il futuro. Pensate alla salivazione come va avanti, una cosa proprio fiumi di bava. Sorridono, questo è il finale alla Chaplin, no? Sentite. Sorridono sia l'uomo della politica sia quello dell'antipolitica, il principe Ippolito e il Garibaldino Lando, il vecchio e il giovane appaiando la spada che ferisce e separa, con la spada che cuce e ripara, hanno tenuto a battesimo la nuova classe dirigente. Ma uno, mentre le scrive queste cose, ma non gli viene da ridere, questo è Francesco Merlo, alla memoria, già noto per la sua penna urticante e ora salivante. Ma ve li ricordate quei poveri studentini allievi della scuola di Ragusa che accolgono il premier duce con la canzoncina del Balilla? Facciamo un salto, battiamo le mani, ti salutiamo tutti insieme, presidente Renzi. È una delle scene più patetiche della storia repubblicana, anche perché queste cose succedevano ai tempi di Libro e Moschetto, ma soprattutto perché Renzi si è beato tutta la canzoncina invece di prendere gli insegnanti e di dire Ma siete ricoglioniti? Ma che fate? Ma liberate questi, ma chiamate il telefono azzurro!